Ciao a tutti ragazzi, come sempre prima di cominciare con il video voglio ricordarvi che ogni lunedì facciamo una nuova giveaway e spiegherò in qualsiasi momento durante il video come partecipare, quindi seguite il video fino in fondo e buona fortuna a tutti. E se non siete iscritti potreste considerare l'iscrizione e di attivare anche la campanella, sarebbe assolutamente fantastico e quindi grazie mille ragazzi, adesso cominciamo con il video. Ragazzi oggi Bitcoin si sta riprendendo leggermente, parleremo di uno schema importante che sta accadendo proprio adesso, parleremo anche del fatto se possiamo fidarci di questo rimbalzo che stiamo vedendo, parleremo anche dei mercati tradizionali come sempre e inoltre anche del fatto di Luna che sta peggiorando, abbiamo una nuova proposta e vi darò maggiore informazione a riguardo in questo video. E quindi ragazzi se avete delle criptovalute, se avete Luna o se avete UST, vorrete guardare questo video dall'inizio alla fine e inoltre parleremo anche del nostro trading che sta iniziando a migliorare in questi giorni. E quindi insomma ragazzi come sempre bentornati a tutti, mi chiamo Marco, portano video riguardo le cripto di giorno, mostrano come fare solo in questo mercato e se non siete iscritti potreste considerare l'iscrizione, rendete bene che la campanella sarebbe assolutamente fantastico e detto questo cominciamo parlando di Bitcoin perché possiamo vedere che la fascia arancione e le linee rosse hanno ancora dimostrato di essere molto significative, possiamo vedere che abbiamo trovato supporto sul bordo della fascia arancione in questa zona e da allora abbiamo cercato di superare questo livello, siamo stati respinte, abbiamo avuto un leggero consolidamento all'interno di questa fascia arancione, abbiamo avuto un fake out e siamo scesi verso la nostra linea rossa e adesso invece stiamo iniziando a vedere un'altra spinta verso l'alto. E quindi cosa possiamo fare adesso? Bene, dobbiamo superare questo livello successivo in Bitcoin perché possiamo vedere che questo massimo era effettivamente inferiore al massimo precedente e quindi quello che vogliamo vedere è la continuazione verso l'alto e il raggiungimento anche di un massimo più alto di quelli che abbiamo fatto in precedenza e poi forse vedremo un altro rifiuto, magari andremo a ritestare i livelli più bassi, forse potremo scendere verso i 33 mila dollari e quindi questo qua è un scenario che sembra probabile adesso. Ma come vi dicevo penso che acquistare lì sotto dei 30 mila dollari sarà qualcosa che continueremo a fare ogni singola volta che scendiamo in basso, andremo ad accumulare sempre più Bitcoin, questo perché ripensandoci tra un paio d'anni penso che sarà stata una buona scelta insomma. E per accumulare intendo aggiungere alla posizione a lungo termine perché abbiamo comunque sia il nostro trade. E quindi parlando anche del nostro trade, adesso diciamo che non siamo in perita enorme come gli scorsi giorni, adesso siamo in una circa 30 mila dollari di perita, il che non è una cifra significativa, non è così male rispetto a quanto stavamo parlando pochi giorni fa che eravamo a circa meno 60 mila dollari e quindi quello che possiamo vedere adesso è che il nostro prezzo di ingresso è di circa 35 mila dollari e quindi se dovessimo salire a 35 mila dollari questo inizierà ad essere in profitto. Per questo non abbiamo problemi a mantenere questa posizione aperta ragazzi perché il tasso di finanziamento inoltre è addirittura negativo adesso, quindi in realtà veniamo pagati per mantenere questa posizione aperta, il che non è male. Adesso abbiamo anche una formazione in Bitcoin, quindi nel grafico da 4 ore abbiamo questo schema e ci stiamo consolidando all'interno di questa formazione e questo in realtà potrebbe avere un breakout nelle prossime ore, quindi anche ieri abbiamo avuto qualcosa del genere, quindi possiamo tracciare questo schema in diversi modi ma penso che anche questo sia sicuramente valido e quindi dobbiamo solo aspettare e vedere cosa andrà a fare il prezzo una volta avuto un breakout in questa formazione. Se andiamo a guardare anche il quadro generale sembra più probabile che andremo verso il basso, potremo quindi avere una continuazione di questa tendenza che stiamo avendo in questo periodo. Ma proprio come vi dicevo questo qua è un supporto enorme per il prezzo e come vi mostravo anche nel grafico settimanale questo è sicuramente un livello dove mi interessa accumulare più Bitcoin. Adesso invece parliamo anche dei mercati tradizionali perché invece nell'SP500 abbiamo avuto un bel rimbalzo dopo aver trovato supporto verso i 3853 dollari e quindi stiamo guardando questa continuazione dei mercati tradizionali a rialzo che è qualcosa a cui dobbiamo prestare attenzione. E invece il dominio anche di Bitcoin si sta rafforzando in questo periodo se controlliamo il dominio di Bitcoin nel grafico giornaliero possiamo vedere che stiamo formando una piccola bandiera rialzista abbiamo questo grande rally e stiamo vedendo anche questo tipo di consolidamento in questa formazione a bandiera e questo di solito porta ad altre spinte verso l'alto quindi forse gli altcoins andranno a continuare a sottoperformare quindi Bitcoin potrebbe andare meglio rispetto agli altcoins del prossimo futuro ma questo qua ci dà la possibilità di accumulare altcoins a prezzi molto economici e di entrare in progetti più piccoli che vengono lanciati e quindi questo qua ovviamente è qualcosa di cui continuerò a parlare nel nostro canale ma adesso parliamo anche di un fatto molto importante perché voglio parlarvi di Luna perché come sapete il problema con Luna non è risolto e più leggiamo notizie più il fatto insomma si fa strano quindi ieri eravamo rimasti sul fatto che stavano proponendo di provare a ricompensare i piccoli possessori di UST perché i piccoli possessori rappresentavano il 99,9% di portafogli ma non rappresentavano molto rispetto all'intera fornitura di UST e quindi questo adesso stanno invece promuovendo qualcosa di diverso quindi anche se DocOne ha proposto di creare una fork all'interno dell'ecosistema di Luna se guardiamo più nel dettaglio andranno a distribuire un miliardo di nuovi token di Luna al 25% della community controllata dalla governance abbiamo direttamente questo articolo che mostra questo fatto quindi abbiamo un miliardo di token qui e il 25% va alla governance e poi abbiamo anche un fatto molto interessante perché il 35% andrà verso i possessori di Luna e questo include i possessori di Luna che hanno comprato a 100 dollari e i possessori anche di Luna che hanno comprato in questo periodo a prezzi come 0,0001 e qualcosa che ovviamente è completamente diverso come prezzo quindi secondo voi le persone che hanno comprato Luna a questo prezzo stanno speculando sul prezzo adesso dovrebbero essere considerate allo stesso livello di che ho comprato Luna quando il prezzo di Luna era a 100 dollari onestamente non credo ma questo qua è ciò che stanno proponendo adesso quindi la blockchain di Terra così come attualmente avrà una fork e quindi ci sarà una nuova blockchain senza alcuna stablecoin algoritmica chiamata Terra e quindi anche questo è molto interessante perché la nuova blockchain non avrà una stablecoin algoritmica anche se questo è il motivo per cui Luna era così popolare la stablecoin algoritmica è stato il fatto chiave per il successo di Luna molti progetti ruotano attorno alla stablecoin algoritmica quindi non so quanto successo potrà avere questa fork se andranno a rimuovere la stablecoin algoritmica ma forse questo qua è l'unico modo per andare avanti a prescindere non tutti quanti sono contenti di questa proposta per esempio abbiamo Terra Builder Association penso che questo qua sia un validatore di Terra ma stanno comunque stia proponendo che il 35% non dovrebbe andare alle persone che stanno speculando su Luna adesso ma solo a chi ha comprato Luna e detenuto UST prima del crash appunto dovrebbe ottenere la maggior parte di questi token airdrop e inoltre dovrebbero anche considerare che i detentori di Luna dovrebbero ricevere più airdrop rispetto ai detentori di UST o meno perché Luna è in calo di molto mentre UST è in calo di meno rispetto a Luna e ricordate che l'intero punto di Luna era di stabilizzare il PEG per UST e quindi se il PEG di UST non era ad un dollaro l'intero sistema è stato progettato per mandare in crash Luna le persone che hanno acquistato Luna quindi spero che almeno la maggior parte di loro ne fosse consapevole ovvero che Luna era il token il cui scopo principale era stabilizzare il PEG per UST e se non erano in grado di stabilizzare il PEG a un dollaro per terra UST beh questo è stato progettato per scendere letteralmente a zero e quindi forse dovrebbero dare la priorità ai detentori di terra UST perché questa moneta non è stata progettata per scendere a meno di un dollaro mentre Luna è stata progettata invece per scendere a meno di un dollaro in caso di DPEG e quindi ci sono diversi modi per considerare questo fatto che dovremmo continuare a considerare noi stessi ma a prescindere dal modo in cui abbiamo gestito questa situazione in cui hanno gestito questa situazione è stato completamente assurdo perché come sappiamo avevano miliardi di dollari in Bitcoin e quindi cosa hanno fatto con tutti quanti questi soldi? bene, hanno rivelato cosa hanno fatto con questi soldi hanno venduto la maggior parte del Bitcoin ed hanno acquistato UST con quei Bitcoin per proteggere appunto il PEG della moneta e quindi hanno acquistato 1.164 miliardi di UST il che va bene, hanno comprato UST onde evitare che scenda di più giusto o sbagliato che sia possiamo discutere riguardo questo fatto ma è quello che è successo ma quello che hanno fatto di seguito è che hanno venduto gli UST per comprare Luna e quindi hanno fatto scendere UST ancora più in basso e quindi ragazzi dobbiamo capire che la fondazione di Luna è stato il giocatore più importante nel far scendere il prezzo di UST ancora più in basso perché hanno scambiato UST per Luna facendo scendere il prezzo di UST e adesso hanno questi Luna in stake che valgono letteralmente nulla e che penso che sia completamente assurdo in poche parole hanno riscattato i possessori di Luna ed hanno fatto il contrario di quello che avrebbero dovuto fare in base a come è stato creato appunto il sistema di Luna in generale e quindi molte persone hanno molte domande da porre adesso ma più informazioni otteniamo da parte di Luna Foundation e da parte anche di Doquan e più domande appunto si creano quindi penso che sia davvero molto interessante da continuare a controllare come progetto e sono sicuro che questa qua non è l'ultima cosa che sentiremo riguardo questa situazione di Luna ragazzi come sempre insomma viterò anche aggiornati riguardo a questo fatto come sapete abbiamo venduto la maggior parte del nostro Luna che avevamo acquistato adesso infatti il prezzo continua a scendere abbiamo circa il 10 o 20% del nostro trade iniziale e come sempre se dovessimo vedere un'altra opportunità ve ne parleremo nel canale forse avremo un'altra occasione per fare un altro 10 o 20 o 50 per a breve termine con Luna ma avete ragionati su Twitter e su YouTube e quindi assicuratevi di iscrivervi e di fare anche la campanella se non l'avete già fatto adesso sto per un attimo il video e vi spiego come partecipare alla giveaway per partecipare alla giveaway dovete semplicemente essere iscritti al canale e rispondere a questa domanda nella sezione dei commenti pensate che il mercato beri sia cominciato o ci troviamo semplicemente in una fase di consolidamento fatemi sapere nei commenti e inviate anche il vostro portafoglio di Binance Smart Chain altrimenti non possiamo selezionarvi come vincitori è giusto per chiedere basta inviare il portafoglio una volta soltanto anche se rispondete a più domande e più video e noi controlleremo l'indirizzo tramite lo storico dei commenti e quindi ragazzi buona fortuna a tutti adesso continuiamo con il video e se volete anche ottenere dei bonus di trading come sempre volete anche ricevere dei bonus di trading per esempio avete fino a 4530 dollari su Bybit e quindi assicuratevi appunto di approfittare di questi bonus che troverete nella descrizione del video se volete e quindi ragazzi come sempre grazie mille per aver guardato questo video fatemi sapere come sempre nei commenti se vi è piaciuto e come sempre ci vediamo nel prossimo ciao a tutti grazie mille per aver guardato il video